ciao a tutti e benvenuti da tina e siamo qui finalmente con la terza parte dello bab dello spacchettamento 2017 2018 bravissima dei calciatori ragazzi se trovo gomez in questo pacco open come la faccio in diretta e vi faccio la dabb va bene prima ragazzi volevamo appunto prima di iniziare volevamo dire che cioè precisare una cosa ovvero che come abbiamo già detto comunque negli altri due video nei altri due spacchettamenti non abbiamo fatto riferimento alla tragedia di assori semplicemente perché abbiamo registrati prima che questo brutto fatto accadesse e quindi questo qui è il primo spacchettamento cioè il primo video di calcio che pubblichiamo da quando cioè che registriamo da quando è successa la tragedia quindi appunto volevamo ricordare giusto per non passare da persone insensibili ecco giusto perché noi appunto avrebbe registrati che ancora non era successo allora allora chiedi iniziare subito ok iniziamo subito ragazzi sono 30 pacchetti anche oggi e tra l'altro c'è anche la maglia di cristiano naturalmente e come sempre come hai detto tu 30 pacchetti l'ultimo video l'ultima parte spacchettamento e ovviamente poi dopo ne prendiamo anche il team box sì altre cose iniziamo il pack opening ok iniziamo subito prima bottina di oggi ok naturalmente il nostro obiettivo come anche per gli altri spacchettamenti qual è? sassuolo e scuole te la rivisa il tuo video bravissimo spero di topare vieni qua pippo 394 allora andreolli politano gamberini che sfortuna scuole il genova che è wow vediamo che numero è? sì mi mancava ti manca? scuole il genova e maurizio sa io ce l'ho giusto ok quando i ragazzi topo maurizio sa ecco le rotte del cotone perfetto naturalmente fateci sapere se volete altri video spacchettamento e naturalmente abbiamo finito adesso cioè con questo video finiamo l'opening cioè l'apertura delle 100 bustine Nalini, Danelli, Sorrentino, Casperton e Tremiolatori dell'Ascoli e la squadra femminile del Sassuolo perfetto andiamo avanti questa qui è la seconda e la terza spacchetta qui ok nella spalla spacchettiamo qui vai allora sarebbero oggi mmm Borazzoli Kulibali Reina tutto pacchetto Napoli 3 giocatori del Palermo e 3 giocatori dell'Empoli ok Palermo e Empoli sono ben giusto naturalmente non fate caso alla mia voce però in questo periodo non so stato tanto bene aspetta un attimo potete capirli niente niente allora vai Farago decilio tanti ragazzi io c'ho giusto Manolas che sfortuna lo staglio lì in più quante volte ti ho atteggiato in alcance tanti ok quante volte c'ho lo staglio in Alassio si tante volte l'inter campista potrebbe essere Gio Maio ok bravo quando l'ho visto l'ho detto Gio Maio Andalu Cintzeco che sfortuna divisa dalla uomo e squadra femminista no squadra femminile no ah no ok la squadra del cittadilla ho sbagliato ok questo è un bagno con la cittadilla non c'è attenzione speciale che non me ne frega niente non so Kikis bravo Benotirò la fortuna Stadio del Cleo no Scudetto del Keo Verona si mi mancava si si la nuova spina dorsale del Milan mi mancava perfetto e chi sono questi bonucci Kalinic Biglia 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 c'è scritto biglia come le biglie però si dice biglia no biglia 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 santon de paoli insignie ecco qui non ti posso appiccicare perchè ti devo appiccicare nell'album cartonato però ti voglio notare perchè le doppie le mettiamo nell'album cartonato che abbiamo già fatto vedere teggiatori del Beccia e teggiatori del Beccia se trovo la di Deltuino non mi lamento eh naturalmente qua vi linkiamo gli altri le altre due parti dello spacchettamento quindi se avete persi andate a curiosare a vedere cosa abbiamo trovato ragusa Cragno non conosce il nome Romagna poi la lista teggiatori del Palma e teggiatori dell'Ascoli perfetto ma mi te ne la scuole ho detto ok poi ecco cosa spunta? cosa spunta? una Olo dei Pokemon si del Pokemon vieni più qua ma non si apre sta bustina vabbè la sfascio ti aiuto ti aiuto la sfascio la sfascio tutto se mi lascia 509 lo scuolezzo ok vai Pegolo Pegolo De Sassuolo De Paul De Paul no De Paul vabbè comunque se naturalmente non fateci fare le nostre prelunce Sassu che sfortuna sei giocatori dell'Ascoli sei giocatori dell'Ascoli bravissimo perché io se devo avere due delle squadre e metti insieme te più tre quanto fa? sei sei ok vai se mi uscire a 509 vai io la posto allora vieni qui qua allora Pippo meto di più qua ok Wind Widmer Gillespie Alfonso che sfortuna ah il film del campionato del Napoli si e poi il narratore del Genova si Ballardini ok sei top Scudetto del Torino si ragazzi dai io mi accontento io mi accontento solo Scudetto del Torino non chiedo anche poi se mi volete bene Caldara Caldara Chedira Colaro che sfortuna tra i giocatori del Foggia e la squadra del Catania no della Cremonese perché Catania dov'è? il 6 e c il 6 e d l'italiano del Milan sono Tonelli ecco sono Bonucci ok Tonelli Stoyan Ikaidi bravissimo poi non hai vinto te giocatori del Bayern la squadra femminile Tavagnacco ok vai ma io ormai il calciatore mio c'è tutto i giocatori del Torino io c'è già dimmi che ti vuoi belotti no no perché non c'è lo Scudetto guardai che è in una è 3500 il Torino ok rinco rinke steiner Barreca chi è? Barreca ah Barreca ok Reggio Emilia stadio del Sassuolo e in rampa di lancio dell'Udinese vai andiamo avanti ormai ci mancano queste qua quindi dai Bonucci si Bonucci Bonucci si si io l'ho sciamato le due abbonone ma noi ce l'abbiamo doppio vero? si si ma lo daremo a chi? a nostra cuginetta a nostra cuginetta che è Tifa Mila ma 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 forse io vabbè dai glielo diamo a lei perché comunque noi ce l'abbiamo doppio Beh, però forse lo devo più giocare Ma forse è anche dell'album cattolato Sì, sì, perfetto Volevamo trovare a perdere la lei Anterucci Wittmann Ah, questo qui? Aspetta, questo qui? Nautink Che nome è strano Tre giocatori del Palermo e Niang Tutti adesso Niang e del Torino All'inizio della collezione Non trovo nemmeno uno Però adesso lo trovo tutto, tutti giocatori Ma il scuretto Noi abbiamo tutti i calciatori del Torino Tranne queste qua E l'ander L'ander Kobnaschi Raffaele Tre giocatori del Bario Tre giocatori del Cittadella Perfetto Andiamo avanti Abbiamo quasi finito Ok, vai No, non abbiamo quasi È speciale Però Non farlo ancora idea, naturalmente Aspetta, non è quello del Torino Ma cattolato di lì La manna Aspetta, non mi hai fatto vedere La manna Allora, la manna Poi Anderson Anderson Sopra Yen Non hai vinto La tenisa del 4-3 ma io ce l'ho già Forse mi mancava questa Forse ti manca? Sì, mi mancava Wow È la squadra del Pescara Del Pescara Bravissimo Se c'è Ah La Miaz La Miaz Beh La Miaz Basta Un calco Sì Abbiamo vinto una bustina Una bustina Perfetto Poi Teggiatore del Bay Teggiatore della Bellino Ok Noi stiamo facendo Poi dicevo Cioè Stiamo aprendo Tante bustine Non abbiamo ancora trovato Una bustina vinta Invece Eccola qua Ah Giatore della Juve Vediamo se è argentino Leggo torno Ma non faccio vedere Ok Però devo Allora devo fare così Se faccio così Dove legge Sì Pippo poi apri In modo strategico Per vedere il nome Comunque qualche indizio Vero Vediamo Matuidi Qua ce l'ho già Vai Matuidi Banzagli Ok Qua è solitato una Empoli Guarda dall'Empoli E il Funky Della Fiorentina Ah Perfetto Lo appenderemo Nella nostra cameretta Ma forse mi mancava Dall'album Catturato Quindi Sì Comunque la incolleremo Perfetto Se lo troviamo Ah Fiorentina Biaghi 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 Ah sì Della Fiorentina Nelson Larsen Cazeles Che sfortuna Gasperini Sì Teggiatori del Perugia Ok Dai Quando vi trovate Sto scudetto Sì Ma secondo me Vi può È introvabile Cioè Lorenzo Il mio compagno L'ha trovato Io non lo trovo Sì Bravizio Tra l'altro Miajlovic Che si è andato Che si è manzato Che ce l'abbiamo già Sì Tra due Tutto doppio Poi E anche là Non lo avete capito Che sono tutti Scalciatori Bicari Rosi Quagliaella Che sfortuna Ti hai giocato Nel ten Non ti hai giocato Nel ten Ok Se mi trovo Gonzali Guayin Un Gonzali Guayin Ti manca? No Ah no Conalons Conalons Il secondo Che dove Mi puoi Trovar Non voglio Guayin Guayin Ok Cesar 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 Zucanovic Che sfortuna Scalciatori Benemente Cire Immobile Immobile Ma io non ti volevo Ma io L'angolo Anche dovevi Immessere Normale No No vabbè Comunque Cire Immobile Del Filme del Campionato Ok Vai E io La C4 Ce l'ho già Comunque Ci mancano Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette 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 Poi la Vittorio Mi Linkovic Savic Ok Abbiamo vinto Spolli Ertò Una Bussina Una Bussina Vinta Poi Mattigliano Alleni Sì E La squadra Del Perugia Sì Pippo Avevo un po' Di tosse E Non Dimmi Che Sau 286 Niente Allora Quindi Mettila un pochino Più giù Ok Cosso Perché non ti piacciono Allora Poi Bruno Pes Quizetig Non hai vinto Treda Salernitano Ma io la odio Stani Ragazzi Prendo le pollici E la statua No No Vabbè No Ma perché L'hai trovata tante volte Sì Lo trovata 50 volte Eh vabbè Dai Lo strappo Lo strappo Vai Andiamo avanti Ovviamente più Poi se la trovo ancora 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 Vai Vai Ok Chi è? Yangto Oikonomou Baisanen Oh mamma mia ragazzi Scusate No dai Ok Poi Oggi mi hanno dati I miei amici Oggi mi hanno dati I miei amici E la trovo adesso Ah Eh vabbè Dai Non importa Squadra l'Atalanta E tre dello Spezia Vai No avanti Perché Ne mancano un po' 50 Vai Oh Uno stecco Uno stecco Allora Deiola 21 Poi Lombardi Obi Obi Dettoro E sei giocatori Dello Sì Sei giocatore De Venezia Ok Comunque Ragazzi Che squadina Ce l'ho già Immobile Che contatto di immobile Non lo chiedo Viola Poi Letizia Chi è? Polo Deul Che sfortuna Una po' Una po' C'è lì E lo stadio Dello Bravissimo Ma ne forse Mi manca Allora Ne mancano Tre Tre pacchetti Ragazzi In tre pacchetti Usciamo Motto Vai Lo scudetto Speriamo Però La vedo difficile Allora Seculin Bani Di Chiara Salernitana E Ultime due Possibilità Ultime due Possibilità Ultime due Ragazzi Possibili Se lo troviamo In unico Pochetto Tutte e due Ah beh Li sarebbe Proprio Zappata Si Poi Vaneusnel Craft Non hai vinto Tre No Si tre Vabbè Squadra del No Nella scuola del Benevento No eh La festeggiata L'anno scorso Se gli abbi del Benevento Ah ok Il doppio salto Si del Benevento Che che Nella numero Sessanta e tre Giorno E del Bescia Ragazzi Ultimo pacchetto Se ne troviamo Tutte e due Unico pacchetto Esplode Vi vediamo Milanda Milanda D'Alessandro San Pirisi Non hai vinto Tre del Pescara E Il Genoa Lo scuola del Genoa No Pippo Basta Mi sono reso Non dove Allora Metteteli qua Pippo Ragazzi Non comprerò Mai più bustine In tutta la mia vita No vabbè Perché non ho trovato Scudette Nel tuo aiuto Si veramente ragazzi Ci abbiamo aperto Tre box da cento Mi pare Trecento pacchetti Più gli altri Non l'abbiamo ancora trovati Più Sessanta pacchetti Trecento Sessanta pacchetti Si veramente Vabbè dai Saremo più fortunati La prossima volta Nel mio Pippo Ecco qui Il prossimo spacchettamento Faremo la vendetta Dello scudette Dello scudette Dello scudette Della rivista Bravissima Il senato Il più forte È stato Geko Geko Ok quindi Pippo ha voluto Metterlo Per primo Qua Su questa colonna Di figurino Che è molto Molto alta Comunque qua Abbiamo le due bustine Che andiamo a ritirare Sono contentissimi E se la volete Scriveteci Con i commenti Così faremo il video Dove apriamo Sono molto fortunati In queste Perché io ho trovato Scudette Della serie A team Sì ma queste qua Gialle ci sono Tante carte Tante figurine Speciali Allora Se Quando facciamo Il pacco Di queste Sì Se troviamo Lo scudetto Del torino Ah si può trovare Lì quelle Sì Quindi se troviamo Lo scudetto Del torino Faccio così Sì veramente Ok Vieni qua Così salutiamo Tutti i nostri Amici panda Quindi speriamo Che vi sia piaciuto Tutte le carte Delle bustine Speriamo che Vi sia piaciuto Questo video E le carte Che abbiamo trovato E mi raccomando Scriveteci se volete Altri video Spacchettamento Visto che Questa serie Per il momento È finita Perché è l'ultima parte Ma L'ultima Perché C'è la mia vita No 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 ne prenderemo Altri Quindi ragazzi Se vi è giusto Questo video Mettete Un bel pollice In su Per spezzare Solo un secondo Vai Se siete nuovi Iscrivetevi al nostro canale Così Faremo Tanti 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 Vi Oggi Vi Vedete questo video Con i vostri amici Buongiorno 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 E quindi Saluti da Tina Pippo Nel prossimo Ciao E se mi basta Fai la piguina Buongiorno Sì